Musica Bentornati a Football Benchmark Bentrovato anche ad Andrea Sartori Global Health Sports di KBMG Ciao Luca Oggi vogliamo parlare delle migliori otto della Champions Perché siamo arrivati nella fase finale della competizione Allora vogliamo sapere da te, cara Andrea Se le migliori otto che si sono qualificate I quarti di finale della Champions Sono realmente le migliori otto d'Europa A livello di valore d'impresa Ma questa domanda, dopo aver fatto tante chiacchierate con te La risposta già la so Ed è chiara anche dalla nostra prima grafica Perché in realtà non sono le prime otto Anzi, la prima, cioè la più ricca Quella che produce più valore Non è riuscita a qualificarsi contro la ventisettesima Ovvero il Sevilla Ed è clamoroso Partiamo da un'analisi del valore aziendale Il valore del club al primo gennaio 2017 E vediamo che il valore del Sevilla Rispetto a quello del Manchester United È 12 volte inferiore Ed è quindi clamoroso Questo è il bello del calcio però È il bello del calcio, meno male che è così Però comunque lo vedremo attraverso tutte le varie grafiche Chi ha un potere economico molto molto forte Tende a vincere sul campo Vediamo che quattro delle prime cinque squadre A livello europeo in termini di valore aziendale E tendo a sottolineare che questo valore include anche i debiti Sono presenti in questa classifica Il Manchester United Che appunto è stato eliminato Ha un valore di impresa di circa 3 miliardi E 100 milioni Il Real Madrid è poco sotto i 3 miliardi Poi andiamo in ordine Vediamo le due italiane Juventus e Roma Con la Juventus che ha un valore di circa 1 miliardo e 2 La Roma è più o meno un terzo rispetto alla Juventus Possiamo dire che fondamentalmente All'interno delle prime 8 ci sono di fatto le prime 9 Escluso il Manchester Con due variazioni importanti Roma e Siviglia Che nella classifica delle squadre Che producono più valore in Europa Sono un po' staccate rispetto alle prime 8 posizioni Sono le due eccezioni a livello economico Non sportivo naturalmente perché l'hanno conseguito sul campo Ma a livello economico sì Sono le due fra virgolette intruse Sì sì E manca anche tra le diciamo Tra le prime 10 di valore di impresa Manca ad esempio anche il Chelsea Però chiaramente c'è stato lo scontro con Barcellona Si sono dovute eliminare tra di loro Ecco Il valore di impresa Andrea Va di pari passo anche con il valore della rosa Certo c'è una correlazione Tra valore della rosa e valore di impresa Ed è una correlazione piuttosto forte Infatti se guardiamo questa classifica In cui abbiamo preso il valore della rosa usando i dati di Transfermarkt Vediamo che la sequenza è molto molto simile Il Barcellona è davanti al Real Madrid Il Manchester City è davanti al Bayern Monaco E la Juventus scavalca il Liverpool Però se andiamo a vedere Diciamo Gli scontri che ci saranno Il valore della rosa del Barcellona È tre volte superiore a quello della Roma E il valore della rosa del Real Madrid È superiore a quello della Juventus Di oltre 300 milioni di euro Però voglio darti un dato che secondo me È in un certo senso eclatante E che dimostra la correlazione Potere economico-successo sportivo Abbiamo preso i dati delle 38 partite Giocate ad eliminazione diretta Quindi partendo dagli ottavi di due stagioni fa Quarti, semifinale e finale Più gli ottavi di questa stagione Totale 38 partite Nel 78% dei casi Le squadre che avevano il valore di rosa più alto Hanno battuto l'altra squadra Che poi vuol dire anche fatturato più alto Tornando alla nostra grafica Di fatto nel 78% dei casi Se tu dovessi scommettere un euro Lo scommetteresti di fatto su Barcellona Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco Sì La partita più equilibrata in questo caso È Manchester City-Liverpool Che sono, guarda un po', le due inglesi Le due inglesi che sono abbastanza vicine Sia valore di impresa del club In termini di fatturato abbastanza vicini E anche in termini di valore della rosa Ricavi operativi delle squadre Perché anche qui naturalmente La ricchezza si genera con i ricavi E su come tu riesci a interpretare E a diversificare i ricavi che ci sono Anche qui le due spagnole Come probabilmente era facile immaginare Sono in testa Le italiane insieme al Siviglia Chiudono sempre questo tipo di classifica Sì Un paio di dati Prima magari di andare ad analizzare In maniera specifica Questa grafica Prima di tutto partendo dal 2010 Quindi dall'Inter di Moratti Solo l'Inter e il Chelsea Sono riusciti a vincere la Champions League Pur non essendo tra le prime cinque A livello di fatturato E questo penso che sia una cosa interessante Mentre se andiamo ad analizzare Questi dati Ancora diciamo La classifica La sequenza delle squadre È molto simile A quella del valore di impresa A quella del valore della rosa Però se vediamo la composizione La torta dei ricavi Di ciascuna squadra Ci sono dei dati interessanti Come abbiamo già detto Tante volte Strapotere commerciale Del Bayern Del Bayern Con oltre il 50% Dei ricavi commerciali Rispetto al totale Forza notevolissima Delle spagnole Sui ricavi commerciali Ma anche con lo stadio Cioè Le due spagnole Generano Oltre 100 milioni di euro Dal proprio stadio Mentre L'altro aspetto fondamentale Che emerge Da questa grafica Più tu sei piccolo Come nel caso Della Roma E del Siviglia Quanto meno Rispetto ai vari Le varie altre squadre Analizzate in questa grafica Più pesa la tv Pesa la tv Sei in un certo senso Più teledipendente Ed è per quello che Per squadre di Medio a piccola dimensione Partecipare alla Champions League È fondamentale Altro dato Molto interessante Che riguarda sempre I bilanci delle squadre È il rapporto Fra Il costo Dello stipendio E i ricavi E il costo Dello stipendio In assoluto È evidente Che se hai giocatori forti Li devi pagare Quindi è evidente Che più la rosa Ha valore Più i giocatori Sono pagati Non a caso Anche qui Le prime due Sono le due spagnole Real Madrid E Barcellona È interessante Vedere la percentuale Però di questo valore Assoluto Che vedete in blu Rispetto al fatturato Le squadre più virtuose Sono quelle Che riescono A tenersi basso E la più virtuosa Di tutti Neanche a dirlo È il Bayern Monaco Il Bayern Monaco A livello finanziario È una macchina da guerra 45% In termini di relazione Tra monti In gaggi E ricavi Ricavi totali Se guardiamo L'ordine Il Manchester City Supera in termini Di ricavi Il Bayern Di Monaco Mentre non era Non era la stessa cosa Per quanto riguarda Il fatturato La Juventus Spende di più Del Liverpool Pur avendo un fatturato Leggermente Inferiore Questo si vede anche Dalle percentuali La Juventus Spende il 64% Dei suoi introiti Di fatto Per gli stipendi Dei giocatori Esatto Esattamente Quello che però È anche importante Vedere A parte il Bayern Di Monaco Che ha Una Diciamo Un tasso di incidenza Del monte in gaggi Veramente bassissimo Del 45% Vediamo che Le prime sei In questa classifica Sono ben al di sotto Del parametro Del 70% Consigliato Dalla UEFA Per quanto riguarda I termini Del financial fair play La Roma Vediamo che Ha All'83% Di impatto Degli stipendi Rispetto Al fatturato In Siviglia È circa Intorno al 70% Con un monte in gaggio Di 100 milioni Che è un quarto Rispetto a quello Del Real Madrid Altro dato Molto interessante È la redditività Delle squadre E qui ci sono Delle sorprese Interessanti Perché la Juventus Balza al secondo posto La Juventus Balza al secondo posto Un risultato Impressionante Quattro volte in più Rispetto All'anno precedente Questa è la stagione 2016-2017 Però In questo bilancio C'è l'effetto Pogba C'è la plusvalenza Derivante Dalla vendita Del giocatore Francese Anche qui Vediamo che In termini Assoluti La classifica È molto Diversa Rispetto All'analisi Che abbiamo fatto In termini Valore di impresa Fatturato Valore della rosa Il Bayer di Monaco È primo Abbiamo sei squadre Che generano Un utile Ante imposte Che è una cosa positiva E anche in un certo senso Dimostra come Negli anni Le squadre europee Siano diventate Molto più virtuose Molto più sostenibili A livello finanziario Il Manchester City Praticamente A pareggio E purtroppo La Roma È l'unica squadra In perdita Con un utile Ante imposte Una perdita Ante imposte Di 36 milioni di euro Non incidono In maniera diretta Sul bilancio I social media Ma come abbiamo avuto Modo di analizzare Danno intanto La testimonianza Di quanto la squadra È famosa Di quanto sia Riconoscibile il marchio Quindi si arriverà Poi a una valorizzazione Del discorso social Ma qui torniamo Forse anzi Esasperiamo Il concetto Che abbiamo espresso Per tutta questa puntata Sulla Magnificotto Real Madrid e Barcellona Sono nettamente Le squadre più famose Del mondo Per lo meno Guardando i dati social Assolutamente Manca il Manchester United Ma se avessimo Il Manchester United Sarebbe a circa 100 milioni Quindi diciamo Che il riconoscimento Internazionale Quanto meno A livello A livello di social media Delle due spagnole È enorme Il totale Delle quattro piattaforme Che monitoriamo Mostra delle cifre Superiori Ai 200 milioni Interessante Anche vedere La differenza Tra le due grandi spagnole E il Siviglia È 70 volte Il Bayer Monaco Che abbiamo visto Essere una potenza A livello Economico Finanziario Ha circa Un terzo O meno di un terzo Dei followers Delle due grandi Ha individuato Qual è l'area Su cui ancora Può lavorare Il Bayer di Monaco Sì Però Allo stesso tempo Se tu guardi I loro ricavi commerciali Sono davanti Alle spagnole E in un certo senso Sono capaci Di monetizzare Monetizzare meglio Non solo i follower Ma anche La loro fortissima Base di fans Che hanno in Germania Quanto pesa La star Della squadra Ce lo dimostri Con la prossima Grafica Perché addirittura Ma questo già lo sapevamo Perché già ce l'avevi detto Andrea Cristiano Ronaldo Ha 100 milioni di follower In più rispetto A Real Madrid Quindi in più Rispetto alla squadra È evidente Che c'è un effetto traino Non indifferente Da parte di questi giocatori Per la propria squadra Indubbiamente L'abbiamo detto Il valore commerciale Di questi Di alcuni giocatori Ronaldo Messi Ad esempio È enorme E in alcuni casi Come nel caso Di Ronaldo Come nel caso Di James Rodriguez Come nel caso Di Neymar Nel Paris Saint Germain Che chiaramente Non appare Su questa grafica Sono giocatori Che hanno un numero Di follower superiori Alla loro squadra Ricordiamo ai telespettatori Che Messi Appare molto indietro Rispetto a Ronaldo Semplicemente Perché Non ha un account Un account Twitter Altra cosa interessante Ci sono due giocatori Che appaiono In questa classifica Uno Egiziano Effettivamente Salah E uno Di almeno Di origini egiziani Come El Sharawi Che hanno Un numero Diciamo Di followers Molto importante 21 milioni Salah E 11 milioni El Sharawi E quindi Anche fa vedere Come avere Determinati giocatori In un determinato mercato Che sono importanti E riconosciuti In un determinato mercato Può portare Può portare A un numero Diciamo Di followers Importantissimo Per il club Chiudendo Con la Juventus Vediamo Che il giocatore Più seguito È Di Bala E purtroppo In questa classifica Non appare Nessun giocatore Italiano Chiudo Con una battuta Statistica Se mi permetti Ringraziando Intanto per questa Analisi Ci hai detto Che il fatturato Incide più o meno Per l'80% Il 78% È il cambio turno Quindi significa Che un 20% Sovverte il pronostico Del fatturato In bocca al lupo Alle italiane E meno male Che è così Perché è la bellezza Del calcio Grazie ancora Andrea Sartori Appuntamento con Football Benchmark Alla prossima settimana